Ascoltate il continuo sonoro di un'ottava. Ora la voce della cantante giapponese Michiko Irayama che riesce ad emettere 48 suoni in un'ottava. La voce della cantante giapponese La voce della cantante giapponese Nuovamente con il generatore elettronico la scala pitagorica di 21 suoni. La voce della cantante giapponese E la scala naturale di Zarlino anch'essa diventa un suoni. La voce della cantante giapponese Infine la nostra scala temperata o cromatica di 12 suoni. Si può addirittura far musica per una sola nota Come ha fatto un musicista italiano contemporaneo, Giacinto Scelsi, in un quartetto per due violini, viola e violoncello, sfruttando al massimo le oscillazioni, l'alone diremmo, della nota La. La voce della cantante giapponese 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 La voce della cantante giapponese